Non ti preoccupare tanto non mi capisci Vedi questo negozio, il comando avvice Sento che comunque ti vuoi dire una cosa, è complicato arriva qua Perché? Se sei tenuto un navigatore, digitava la strada, sai che c'è più scritto? Fatti venire a pigliare Vieni Mariano, vieni, seguimi Ti piace? Oh bello, bello Questo è il reparto abbigliamento Oh ma sono tutti prodotti madencina? E ti dico, eh? Dice la verità Vieni, bello Questo è il vestito per il matrimonio di tua sorella Bene Proprio come... come volevi tutto Sì, come... Perfetto Adesso... Adesso come qualità sembra un po' migliore No, questo lo devi vedere addosso Così non dici niente, ma addosso è perfetto, va Non dici niente Non dici niente Perfetto Perché? Ah Adesso non non l'ha mai E' così Ma E' così È così Soprì Ma va a fare un c***o! A solità! Mamma mia come sei bella! Mi sento male! Che stai dicendo? Questo è bellissimo! No, no, non ce la faccio proprio più! Tengo più sbalzi di temperatura! No, perché praticamente questi sono tessuti sperimentali! Sperimentali faccia la cavia! Tengo un pantalone, guarda che calore che male! Praticamente questi sbalzi di temperatura lo sai perché lo fanno? Perché fuori è lana, dentro è cotone, mentre la giacca fuori è flanello e dentro è seta, invece la scarpa... Fuori il montone, si aprescia l'infra di te i progetti! Brava, brava! Ok, sei benissimo! Tu mi devi far sapere come te lo senti! Ma c'è anche stretto! Questo non ti preoccupare, questo è l'ultimo dei problemi perché dopo la prima lavata si allarga! Ma quando non mi sento allarco? E non ti preoccupare, l'ultimo dei problemi perché dopo la prima lavata si stringe! Pazzo, il problema è sempre buono! Guardi, ma non è complicato! Questi vestiti ti fanno fortissimo! Pensa che a Shanghai si buttano! E se tu non ti offendo! E se tu non ti offendo! Io mi metto a capurcana per fare una assenza fina! Ok, ciao! D Eggvere all'inizio a tutti! No! No! No!